Ok, andiamo A posto, primo match subito Esther Rossa Mi piace, 3.20 potrebbe essere anche un player Vabbè però se io ho queste carte Insomma Vediamo, no mi sa che è un botto Vediamo il team di Esther Rossa quanto dura Contra King Credo molto poco con le carte che ho pescato Però Beh comunque è l'unico problema che mi da Vabbè Sì vabbè ma è il team di un player questo Se viene commentato da un bot sti cazzi Pure se fosse stato un player lo stesso avrebbe fatto la stessa fine Poi c'è un nero, non riesce neanche a infreggere lo scudo Anche perché ha le stats di un team con il E' vero, ha 359.000 PS E questo non è il team di un player Runc up su Kyo Ah, vabbè, 580 Va bene, chill man, chill, chill Che più player dovrebbe essere più pronto che player Eh, vale a Dianet Marble, che cazzo ne so Non lo gestisco io il PvP O tre Due c'è la possibilità di critico per due, per questo Ah, finalmente Ci può dodge O ci può bot Vediamo se sopravvive Che noi prima abbiamo fatto T3 C'ha 4 di buff su esta rossa Da se esta rossa esplode Ah, vabbè, sta rossa in qualsiasi modo A parte con T3 forse, vediamo Non ha critato, vabbè Il mio King è una merda Non ha critato sul suo esta rossa Però se non giocano, se non giocano T3 su esta rossa Una shot a King Se invece giocano a T3 rossa Giustamente, non una shot Però il mio King è la stessa cosa Non mi ha critato il pezzo di merda Quanti ha capito a massimi? Eh, 316 giustamente Questo è attacco crit Io ho shotto a M Non ho shotto Esta rossa A M è il vero problema Qui in mezzo Il mio King è forte Certo, caro Che forse Se hai esta rossa nuovo Tanta roba Se non ce l'hai Meno roba Vabbè, però King Comunque parte del primo E sta rossa È abbastanza difficile Che se la può giocare Anche perché rimane con pochi HP Se la io dovesse giocare con Chandler Secondo una metà HP rimane Vabbè, King Pure con l'uscita di questa rossa Non sei in vana Giocati Hanna È bestemmio Sì 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 Non quittare Per favore Non quittare Non quittare Sì Vediamo Questo è il momento della verità King Sarà ancora forte Come tutti dicono Poi ci farà prendere Un pisello enorme Sariel Chi è? C'ha Tarmiel Non ho visto Due seal Non c'ha Tarmiel Vabbè, sì Qua ne sbocciano Vabbè, F per il team di Go Non è comodo Per far sopravvivere E sta rossa A parte avere qua Buscio di culo Che ha skillato l'uno di vita E con Tarmiel Rosso Sì, è l'unica Belle carte di King Che c'ho Vabbè, F per il ragazzo Vabbè, comunque Possiamo ancora constatare Che il team di King Si attacca per il primo E si è sempre rotto in culo Nemmeno S rossa Può nulla In confronto alla sua potenza Guardalo E' intoccabile Ah, io questa schermata Volevo vedere Eeeh Un altro Testa grossa Eeeh Puretti 2 Eeeh Se c'è da Miel Rosso Sei una brutta persona Vabbè, a sto punto Però ho shotto sicuro C'ho pure 4 incendi Quindi Sigurd Kill garantina Vedi, se non avessi Che il Tarmiel rosso E sta rossa Molerebbe anche una King Però niente Scandolo di King Sigurd con uno di vita E' rimasto L'altra Beh Merda E' la testa grossa Niente Sigurd ultra scammato Però lo scudo di King Non si infama Per carità Ha fatto la skill Più merdosa Che poteva fare Però Comunque lo scudo di King Tanta roba Facciamo così Merge questa rossa Però potrei Tirare qualche Madonna Mi chiamo quel Sigurd Comunque è un BP Vorrei dire Ok, non ha mergiato nulla Grazie gioco Boh, l'ha mergiato Vabbè Meglio mo che prima Vediamo un po' come si comporta Questa esta rossa Che c'ha Un paio di buffo Grigli su di me Bello, se esta rossa Non avessi avuto Tarmiel rosso Era morto già da una vita Ok Ok Eh fin qui Ci sta Ora sono curioso Eh no Gli ho tolto il gauge Voglio vedere Eh Gli ho tolto il gauge Scusami caro Scusami Non volevo Ho offeso qualcuno Non volevo Voglio vedere la ulti Sulla scudo di King Quando faceva C'ho pure la Rerick 5-0 Non si capito Porca madosca Eh M Eh ma si fa Senti Pure T3 Vabbè Ma questo è il bot Degli dei Ho trovato contro Magonna Pure T3 C'è il bot Porco schifo Non si mette Non si mette un po' Rosso sub Tarmel sub Tarmel sub Tarmel sub Triz Avremoci una T3 Ludo seale Tarmel su AM Forse Yes Vabbè Allora qui posso andare pure Di T3 Me ne frega un cazzo Ecco Ora la differenza Tra avere una Tarmel rosso sub E starosso E non averlo Quando incendi Diciamo Due sempre Ok Prende la stessa Partita di prima Però stavolta C'è la Tarmel rosso AM Però mo esplode Starmel Purtroppo è così Pure AM S'avebbe esploso Se non avessi avuto Tarmel rosso Vabbè Una volta che tu fai Una cosa del genere Non puoi fare niente Dai sta qui Ervate Ah sei tu Che stai facendo tu Vabbè Come sempre Numero 1 Ulti Rascino di AM Oh si Non c'ho manco Scooty King Ma mo io mo esplodo Me Sinceramente Esplodo adesso Perché c'ho la ulti Quel comadonna Sand Guarda che io Mo devo perdere così Perché non ho carte Da Nemmeno uno Scooty King Sai lo Scooty King Mi avrebbe poterto Dalla ulti Però c'ho solo Due buff Vabbiamo Anche l'ho shotta Invece a darmi il rosso Che shot Yes Man Eh però Questo è bullismo Su King Piccolo ragazzo Piccolino Ok posso tornare a giocare Forse Cioè questo mi ha shottato Perché Non c'erano carte di King Poi mi ha giocato La ultima Il turno 2 Ah questi bot Ah questi bot Facciamo così Dovrei shottarlo Ok Ma è chi io Mannaccia Mi senso di chi Io non ce la fa manco Ah ma M È MVP qua Non vuole andare giù Guarda Guarda Non vuole andare giù Che sbocco Ti prego Gioco Non gli immergiare le carte C'è un'altra T3 Questa Beh io non ho parole Vi dirò la ultima Cosa attiva l'effetto È uno di due Gesù Eh giustamente Niente Io ho trovato Il bot finale qua Per fortuna Che ha immergiato T3 Oh eh Non T3 singolo Quindi M Rimane da sola M Guarda Guarda Quanti buff C'ha Di buff Non si capisce un cazzo E ancora la dissoluzione C'ha Basta no C'ha Uno Due Tre Quattro Cinque Sei Sette Otto Quattro Dodici Incendi Cinque Cinque buff Di Quattro Verde Io già Faccio F C'è c'ha 12 Incendi E' E' Santo Ma chi cazzo è No 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 No